La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Per la mia inchiesta dal titolo Perché il conflitto è nato? Ho ritrovato tra i file diverse notizie su una lobby molto importante, filo atlantista, filo Nato, che coinvolgeva i vertici del governo ucraino. L'acronimo di questa organizzazione è YES, Yalta European Strategy, il principale think tank nato per discutere del futuro europeo e dell'adesione nella Nato dell'Ucraina. YES, si legge sul sito dell'organizzazione, collega l'Ucraina ai partner internazionali e, badate bene cosa scrivono, sostiene le forze per il cambiamento nel paese e costruisce reti di sostenitori per una nuova Ucraina. L'incontro annuale della YES European Strategy si è svolto presso il simbolico palazzo Ayalta, il palazzo L'Ivadia, dal 2004 al 2013. È il luogo in cui l'Europa è stata divisa nel 1945 ed è diventato così il luogo, secondo gli organizzatori, per unire un'Europa più ampia che comprenda anche l'Ucraina. Bene, prima di andare alla descrizione vorrei darvi una piccola perla in modo che possiate capire subito qual è il tipo di cartello che si muove dietro queste organizzazioni. L'unico italiano chiamato a farne parte, come riportato sul sito ufficiale, è proprio Mario Monti, ex presidente europeo della Commissione Trilaterale di Rockefeller e membro del Committee del Bilderberg, giusto per intenderci. YES ha iniziato nel 2004, quindi subito dopo la salita al potere del filo statunitense Yanukovic e su iniziativa del ricchissimo oligarca Viktor Pinchuk che ha riunito 30 personalità europee e statunitensi per fare in modo che questo YES diventasse ufficialmente la succursale ucraina del World Economic Forum con cui infatti l'OIS condivide tanti membri e molte delle riunioni si svolgono proprio parallelamente col World Economic Forum di Davos. Che altro dire di questa organizzazione? Molti dei membri che ne fanno parte sono tutti esponenti di quello che io ho definito il cartello atlantista dell'Ucraina. Tant'è vero che all'interno di questa organizzazione per esempio c'è l'ex presidente della Polonia ed è lo stesso personaggio che troviamo anche nella Burisma la famosa agenzia, la famosa azienda del gas ucraino nella quale lavorava anche Hunter Biden, figlio di Joe Biden nel cui consiglio di amministrazione c'era anche Igor Kolomoisky quel famoso oligarca ucraino proprietario del canale televisivo dove è andata in onda la serie televisiva dedicata a Zelensky lo stesso Kolomoisky considerato il principale finanziatore proprio dell'attuale presidente dell'Ucraina quindi l'ex presidente della Polonia ossia colui che ha portato la Polonia nella Nato e nell'Unione Europea in due mandati diversi risiede nel consiglio di amministrazione della Burisma insieme a Kolomoisky che ha finanziato Zelensky e insieme a figlio fino a qualche anno fa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di intrecci ce ne sono davvero tantissimi difficili da riassumere in una pillola radio di pochi minuti però vi assicuro che questa organizzazione aveva cooptato Zelensky tant'è vero che nel 2020 Zelensky parteciperà insieme a Victoria Nuland vice segretario di Stato americano considerata la vera eminenza grigia degli affari statunitensi in Ucraina bene se guardate sul sito ufficiale nel 2020 era insieme a Zelensky a questa riunione mentre Zelensky giurava ai partecipanti ai membri atlantisti che avrebbe riportato la Crimea all'Ucraina sottraendola alla Russia e che quella non era una promessa perché non lo avrebbe fatto soltanto a parole quindi in quel think tank stava nascendo il fronte filo statunitense il fronte che avrebbe cooptato Zelensky e lo avrebbe trascinato poi in guerra con Putin approfondimenti nell'inchiesta perché il conflitto è nato già disponibile sul sito francescomodeo.it un caro saluto a tutti la Matrix europea la verità dietro i giochi di potere con Francesco Amodeo